Contro informale non vorremmo dire altro, onestamente. Si tratta. Si tratta? Si tratta. State ancora trattando? Ovviamente sì. Si tratta, si tratta. La partita è chiusa o ancora aperta? Aperta. È tutto ancora aperto. Chi avete incontrato o il governo? Chi avete incontrato? Questo ce lo potete dire? No, no. Informale, informale.